buongiorno buongiorno a tutti ragazzi buona giornata e bentrovati allora tiene sempre banco il mercato della juventus come sapete la notizia del momento questo possibile scambio lukaku vlavic a quanto pare però il serbo pare abbia rifiutato la destinazione inglese ma attenzione perché su vlavic è tornato alla carica il bayern monaco il bayern monaco allenato da tuchel che sembra tutto sporto questa mattina riporta in prima pagina che dopo il rifiuto di kane di andare al bayern monaco il bayern è tornato su tuta vlavic offrendo anche i cartellini di gravenberg e di guretzka questo è quello che titolo questa mattina tutto sport in prima pagina ovviamente la juve via vlavic andrebbe a prendere lukaku con il quale c'è già l'accordo su tutto e quindi niente c'è questa offerta del bayern monaco che sinceramente non so se è vera è guretzka più gravenberg per vlavic però questo è quanto quello che titolo il giornale e quindi io ve lo riporto se non ci credete andate a leggere non è che invento le cose a voi cosa ne pensate guretzka più gravenberg per dusan vlavic fatemelo sapere commentate qua sotto se avete voglia siete d'accordo vi piacerebbe non mi piacerebbe al di là che rio lukaku lasciamo stare lukaku io parlo dell'offerta del bayern monaco guretzka più gravenberg per vlavic cosa ne pensate fatemelo sapere commentate e iscrizione al canale se avete voglia e niente dai manca la dai che mancano due settimane scasse in zona serie a dai zuc ci siamo quasi finalmente non vedo l'ora dai detto questo vi saluto vi auguro una buona giornata commentate sotto la notizia di oggi tutto sport il bayern monaco offre gravenberg più guretzka per dusan vlavic fatemelo sapere ciao ragazzi